allora buongiorno a tutti su questo mio amplificatore marans da 60 watt per canale su cui stanno scorrendo i sony cute di bad boom rising in ascolto su spotify perché poi alla fine pur avendo i dischi è più comodo ascoltarli online perché si fa meno fatica a cercare il disco e a metterlo dentro volevo fare un breve video molto veramente questo breve di scuse per un mio sfogo che ho fatto su una mia recensione di due giorni fa dei residence dei carcas e di altri gruppi allora no mi scuso veramente perché lì mi sono lasciato prendere un po troppo la mano forse offeso involontariamente qualcuno che mi aveva chiesto di un piacere di fargli insomma una mini recensione su battiato o un altro sugli heart ecco mi dispiace molto se magari che ne so cita a caso lost in music con l'altro ragazzo di questo mi sfugge il nickname che mi aveva chiesto battiato frank trip altri insomma quei quattro gatti che mi stanno appresso se poi io certo li tratto pur a pesci in faccia perdo anche loro quindi no di questo mi dispiace penso giuseppe sia fuori dalla lista perché lui si era scollegato giustamente dai social per un po e questo appunto volevo parlare della trappola mortale dei social che a volte ci rende troppo egocentrici e spinge troppo il nostro ego a livelli spasmodici in cui alla fine ahimè ci casco anche io che sono più grande di voi perché è inevitabile che psicologicamente si crei questo meccanismo infernale però una cosa vi voglio sottolineare e far capire se io ho fatto quello sfogo lì è perché appunto vi reputo dei ragazzi intelligenti dotati di un proprio cervello e quindi sarei contento che voi questo cervello lo siaste e senza stare a sentire i vari influencer o nomi che girano sui social o su youtube vari youtubers influencer anche se apparentemente pare che chissà chi siano che hanno ascoltato questo hanno ascoltato quello voi dovete credere innanzitutto alle vostre orecchie per la musica ai vostri occhi per il cinema e per l'arte visiva in generale anche per la lettura ovviamente dei libri e dovete credere al vostro cervello nel senso dovete voi sviluppare un vostro senso critico poi chiaramente io vi posso dire io con frusciante mi trovo bene ma io ho beccato lui perché ho visto che veramente aprendo youtube è uno che ha più visualizzazione sul cinema ho detto stiamo un posto io che non lo conoscevo eh fino a poco tempo fa io infatti saranno sei sette mesi che lo seguo ho visto beh cavolo questo c'ha i stessi gusti miei perché ascoltiamo la stessa musica vediamo gli stessi film più o meno andiamo sempre d'accordo un po su tutto seguo lui quindi ecco il mio consiglio è questo seguite solo frusciante lasciate perdere tutti gli altri perché altrimenti fate una gran confusione e non ci capirete più niente poi escono fuori delle baruffe tremende sui social dico uno si manda parolacce con quell'altro tu non capisci niente non ne so più io e si crea un pasticcio tremendo detto questo e poi frusciante da quanto io ho visto insomma non è un influencer a mio avviso è uno veramente che ha una cultura cioè non è che è sbucato perché l'algoritmo di youtube gli ha consentito di avere più visualizzazioni possibili è arrivato ad avere adesso quanti ce ne ha 90 mila iscritti eccetera è perché effettivamente lui ci ha saputo fare e ne sa poi è uno che insomma ci ha lavorato ha avuto una videoteca quindi insomma i film li conosce non è che l'ha scaricati su internet se li visti così col tasto fast forward inserito a velocità massima come tanti dicono di aver visto tanti film tipo ragazzi di 16 anni che già hanno visto tutti i film che ne so dei bell'atar la filmografia completa di orson wells e ti fanno le monografie già a 15 anni io credo che non è che ho dei dubbi che non l'abbiano visto perché chiaramente ormai è tutto disponibile online però poterli assimilare tutti insieme tutto quello che ho messo almeno 15 20 anni quindi farlo in tre mesi mi sembra un po eccessivo quindi per questo date tempo al tempo state a sentire solo uno sentite solo frusciante al limite io vi consiglio visto che frusciante spesso ha fatto delle live con un mio amico che si chiama francesco nunziata che scriva su un da rock su cui tra l'altro ho scritto anche io ecco lui ecco visto che appunto francesco nunziata è una persona seria e ha scritto anche un libro su captain bifart per l'arcana e lui è pure uno che se ne intende di cinema ecco caso mai per la musica e per il cinema c'è onda rock e onda cinema su cui anche io ho scritto per diversi anni poi mi sono stufato perché la paga è talmente bassa per tutta la molla di lavoro che c'era da fare che poi alla fine mi sono anche insomma nel 2016 ho lasciato nel 2017 nel 2017 poi ho abbandonato ma ci ho scritto per diversi anni e con nunziata ci sentivamo parecchio anche perché entrambi insomma siamo di natura scaruffiana quindi insomma ci intendevamo ecco seguite lui è stato a posto mi dispiace se mi cado ancora scusa e per questo sfogo personale che ho fatto due giorni fa però ecco l'ho fatto veramente per stimolarvi a fare voi del meglio ecco quindi seguite il canale solo andate su siti sicuri e non su quelle delle fake news delle bufale ok grazie ciao e buon pranzo a tutti